È mattino. Non sono ancora le sette, ma la bottega del barbiere Makar Kuzmich Blais Stilkin è già aperta. Il titolare, un giovane di 23 anni, poco pulito, unto e bisunto ma vestito come un damerino, è occupato a mettere a posto. In verità, da mettere a posto non c'è niente, ma lui è sudato fradicio per il lavoro. Spolvera di qua, gratta con l'unghia di là. Qui invece trova una cimice e la butta giù dal muro. Si trova lavoro ovunque, basta averne voglia. La bottega è minuta, stretta, sporchina. Le pareti di legno sono coperte da una carta da parati, che ricorda la camicia di un vetturino. Tra due finestre che gocciolano c'è una porticina, angusta, cicolante e minuta. Sopra la porta, un campanello verde, per l'umidità. Se uno si guarda nello specchio appeso a una parete, vede la sua immagine distorta senza alcuna pietà. Davanti a questo specchio, i clienti di Makar hanno la sventura di essere tosati e sbarbati. Sul tavolino unto, coperto da una cera piena di buchi, c'è di tutto. Un copeco di cipria, un copeco di sapone, un copeco di acqua di colonia ben allungata. Tutta la bottega d'altronde non varrà più di quindici copechi. Seppur lubrificate, le forbici stridono per la vecchiaia e i rasoi sono assottigliati fino all'inverosimile per le tante affilature. Sopra la porta, suona un campanello, ed entra un uomo alto, di una certa età, con un pellicciotto di montone e stivali di feltro. Cappello e collo sono avvolti da uno scialle da donna. È Erast Ivanich Draconov, maresciallo a riposo, il padrino di Makar Kuzmich. Un tempo prestava servizio nell'esercito. Adesso fa il fabbro, vicino a Klazni Prud. — Buongiorno, Makarushka, dice a Makar Kuzmich, che è tutto preso dalle sue pulizie. Il viso del barbiere si allunga in un sorriso. Seguono baci e strette di mano. Draconov si leva lo scialle dalla testa. Si toglie il pellicciotto, si fa il segno della croce e si siede. — Ma quanto stai lontano, dice con un gemito. — Mica scherzi. Dal Klazni Prud, dalla porta di Kaluga. — Sono stanco morto. — Come state? — Male, fratello. Ho avuto la febbre. — Ma cosa dite, la febbre? — Già, la febbre. Sono stato lungo disteso a letto un mese intero, chiuso in casa a soffrire. — Ah, destino dei mortali. Pensavo di morire. Mi hanno dato l'olio santo. In un lampo ho cominciato a perdere i capelli. Il dottore allora mi ha ordinato di rasarmi. Ha detto, ne cresceranno di nuovi, di forti. È sempre così. Lo scorso anno è venuto a tagliarsi i capelli il capitano Nezetskin. Anche lui dopo una forte febbre. Eh beh, sono venuti sui dei capelli folti, robusti, che al confronto, il tuo castoro, una vera spazzola. Abbiate fiducia in Dio. Ecco cos'ho pensato nella mia testa. Vado da Macar e che tagli. Piuttosto che andare da qualcun altro, meglio andare da un parente. Farà meglio e soldi non ne vorrà. È un po' lontano, è vero. Ma non è poi un gran danno. In fondo è una passeggiata. E fa benone alla salute. E dunque è sempre, con vero piacere, Per gli amati parenti sono sempre agli ordini, sempre pronto a travagliare. Ma vi prego, vi prego. Macar Kuzmich, strisciando con lo stivale curvo, indica la seggiola davanti al tavolino. Draconov si siede e comincia a guardarsi allo specchio. Nello specchio c'è una faccia storta, con labbra da calmucchi, il naso camuso e gli occhi fuori dalle orbite. Macar Kuzmich copre le spalle del suo cliente con un cencio bianco macchiato di giallo e comincia a far gemere le forbici. Ciocche di capelli grigi cadono sulle spalle del maresciallo. Vi faccio a zero? Sì, certo. Fammi come un tartaro, come una palla da biliardo. Cresceranno più folti. E la zia? Con rispetto. Come se la passa? Niente male, ti l'avanti. L'altro giorno l'han chiamata a far da levatrice alla moglie del maggiore. Si è beccata un bel rubletto. E però, un rubletto? Con rispetto. Tenete su l'orecchio. Tengo, tengo. Tu non mi tagliare. Sta' attento. Ehi! Mi fate male? Mi strappi i capelli? Non è niente. È un male inevitabile. E come sta vostra figlia, Anna? Mia figlia? Non c'è male. Svarfalla qua e là. L'altro giorno. A proposito. Perché non sei venuto? L'altro giorno l'abbiamo promessa a Sheshkin. Le forbici smettono di gemere. Makar Kuzmich lascia cadere le braccia, spalanca gli occhi e sussurra. Cosa dite? A chi l'avete promessa? A Sheshkin. Prokofi. Sta nel vicolo Slatunstensky. Sua zia ha il servizio là. Makar Kuzmich sbatte gli occhi con forza. Sul suo volto cominciano a comparire delle piccole contrazioni. Sì, tra una settimana ci sarà il matrimonio. Vieni, che ci divertiamo. Ma come è stato possibile? Era Stivanič. Questo, con rispetto. È impossibile, dice Makar, con voce alta, stridula, tenorile. Questo è impossibile. Sì, è forse possibile. Anna Rastovla. È vero? Lei è vero. Insomma. Beh, io... Si può dire che vantavo dei diritti su di ella. Nutrivo dei sentimenti per ella. Ne avevo delle intenzioni. Com'è stato possibile? Così, semplicemente. L'abbiamo promessa senza pensarci troppo. Lui è una brava persona. Le fronti di Makar Kuzmich si imperla di sudore. Appoggia le forbici sul tavolo e comincia a sfregarsi il naso con il pugno. Il volto perde colore. Avevo delle intenzioni. Sì. Non è possibile. Era Stivanič. Io ero innamorato di lei. E le avevo fatto l'offerta del mio cuore. Che offesa. E la zia mi aveva promesso. Sì. E poi io da sempre vi taglio i capelli gratis. Vi ho portato come presente il sapone di cocco. E da sempre sistemo l'acconciatura di Anna Rastovna. Agli occhi di Makar Kuzmich spuntano le lacrime. Avete ricevuto ogni favore da parte mia. Lo scorso anno, al parco Sokolniki, avete bevuto tutti il tè a mie spese. E ancora volevate l'aranciata. Ricordate? E allora vi ho comprato anche l'aranciata. Vi ricordate? Come non ricordare? Certo che ricordo. Ma che marito saresti tu, Makar? Che forse sei un marito? Non hai soldi, né posizione, né titolo. Perché Seikin ha un titolo? Seikin presta servizio nei fattorini del telegrafo. Ecco. E tu, invece? Un barbiere. È come essere cameriere di un'osteria. Eh no, signore. Da me, immancabilmente, ogni settimana viene a farsi la barba il capitano Nesetskin. Prima delle feste, il colonnello Muciovaroi è venuto a farsi aprire un accesso. Rimetto a posto mercanti di tutto rispetto e il mio lavoro è il più autentico, il più pulito. Non è un affare sporco. Se non fosse per noi altri, la gente si imbroglierebbe nei propri capelli. Se non ci fossimo noi a radergli le barbe, andrebbero tutti in giro conciati come degli eretici. E così. Parla che ti parla. Ma l'affare è già concluso. Indietro non si torna, caro il mio Makar. Cercatene un'altra. Non è l'unica a questo mondo. Adesso taglia, però. Perché ti sei fermato? Makar Kuzmich tace. E per un minuto sta lì, in piedi. Immobile. Poi il suo viso diventa rosso-porpora. Lui cade sulla sedia e la piccola bottega si riempie di singhiozzi. Era Stevenich. Si alza e comincia a consolare Makar Kuzmich. Dai, cos'hai? Dai, basta! Passa un quarto d'ora. Poi ancora un quarto. Il barbiere non smette di piangere a dirotto. Fenti, finisci la mia testa. Poi potrai continuare a piangere, dice il maresciallo. Prendi le forbici. Makar Kuzmich prende in mano le forbici. Le guarda ottuso e le lascia cadere sul tavolo. Non ce la faccio, dice. Adesso proprio non ce la faccio. Dopo, era Stevenich. Sono proprio un disgraziato. E anche lei è una disgraziata. Ci volevamo bene, si può dire. E voi ci separate senza pietà. Andatevene, era Stevenich. Non vi posso più vedere. E ve lo dico. Ve lo dico che non ne verrà niente di buono. Voi mi avete rovinato. Allora vengo domani, caro Makar. Domani finisci di tosarmi. D'accordo. Datti un po' una calmata. E domani, appena fa giorno, sono qui. Saluti. Vieni al matrimonio. Era Stevenich si avvolge la testa nello scialle. E mezzo tosato esce dalla bottega del barbiere. Makar Kuzmich si avvicina allo specchio. Guarda la sua faccia, tutta storta, e dice. Sono perduto. Io che pensavo di ricevere la dote. Volevo aprire una barberia sulla mia cediscaia. E prendimo questa. Mi è capitato sto diavolo, con la sua posizione da fattorino. Sono un disgraziato. Mi tocca cercare una nuova fidanzata. E il giorno dopo, il mattino presto, compare Erastivanich. Cosa vi occorre, signore? Domanda Makar Kuzmich. Finisci di tosarmi. È rimasta ancora metà della testa. Gratis non lo faccio. Ne ho abbastanza. Con rispetto. Erastivanich esce dalla bottega. E fino ora, la sua testa è rimasta tosata a metà. Secondo lui, tosarsi è un lusso, che non vale neanche il prezzo di una copeca.